il cuore te lo porta questo è sotto la cabana, è stato l'ho allora, allora, benissimo quello può giovasare? no, no, no giovasare per sentire metta l'acqua che è una cosa mi hai messo l'acqua, è un po' di acqua vai, vai, vai 1, 2, 3 fitta da cucina all'olio, avasta cucina, sono uscita all'olio, non c'è stato niente non c'è stato ma non c'è stato ma si, non c'è stato mi hai messo l'acqua mi hai messo l'acqua mi hai messo l'acqua Grazie a tutti. 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 a tutti.